Musica Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nello splendido salone della Fondazione Carifano che da un po' di tempo ogni venerdì si apre alla cultura. Il tema della serata è l'educazione, tema molto delicato e la principale protagonista della serata è la professoressa Tiziana Aureli, psicologa dell'età evolutiva e docente presso l'Università di Chieti. Ha fatto un intervento molto profondo sul concetto di educare, su cosa si intende educazione nell'ambito dell'evoluzione dei tempi. Che differenza c'è tra educare e condizionare? Domanda molto pertinente, possono essere considerati due opposti, perché educare significa nell'accezione etimologica tirar fuori da qualcosa che c'è già e quindi dal bambino, condizionare significa invece buttare dentro, cioè influenzare quello che c'è dentro sulla base di quello che c'è fuori. In realtà non vanno bene nessuna delle due, non esiste un dentro e un fuori assoluto. Quello che io credo, quello che è anche abbastanza condivisibile per la storia dei nostri tempi moderni è che siamo frutto di circostanze anche molto spesso, che ciò che portiamo noi fuori di noi, quindi nella nostra famiglia, nella scuola, nell'ambiente di vita, fa sempre il paio, interagisce sempre con ciò che gli altri, gli educatori, i genitori, i compagni, i modelli magari adulti, ci propongono e quindi che l'impresa dello sviluppo, che è quella a cui io sono più interessata, è come dicevo un'impresa di co-costruzione, cioè nessuno impone le caratteristiche del proprio patrimonio genetico, né l'ambiente impone il suo, ma ci deve essere e c'è una continua reciprocità tra le risorse personali e le opportunità ambientali. Ecco, come si può sviluppare il concetto della crescita in una società confusionaria, la possiamo chiamare? Come quella attuale? Cioè, le faccio proprio una domanda, non da esperto, perché qua io non sono esperto ed educatore. Un genitore, di fronte a questi input frenetici che arrivano dal mondo esterno, come può indirizzare correttamente l'apprendimento e la conoscenza dei propri figli? Beh, io intanto direi al genitore di non essere lui schiavo di questa cosa, perché molto spesso si vive in un clima dove sono gli adulti che creano queste dipendenze, no? Perché anche gli adulti sono, sono sì, insomma resistono poco e entrano dentro questo gioco di velocità e di superficialità, di immagini, vabbè, non stiamo a fare della sociologia, ma insomma questo lo vediamo tutti. Quindi, sapendo che il clima che un bambino in crescita respira è importante, perché è come il clima per le piante, insomma diventa il proprio ambiente, bisognerebbe che i genitori stessi cominciassero ad avere dei valori diversi. E dei valori molto buoni per, a mio parere, per una buona crescita è venuto fuori qui, è venuto fuori dall'educatrice il senso del tempo, cioè il tempo della crescita non è un tempo veloce. Per certe cose può essere anche veloce, ma è preparato, è preparato da micro, micro tempi, è preparato dall'ascolto, l'ascolto non è mai un ascolto improvvisato o temporaneo, è un atteggiamento e l'atteggiamento dell'ascolto significa che devi cercare di capire che cosa l'altro ti dice e questo richiede un minimo di riflessione, abilità che credo si stia perdendo a favore proprio dell'immediatezza e della botta e risposta, come vediamo molto spesso, anche di voci da se infuggite che è poi difficile rimediare. Quindi diciamo il senso del tempo come tempo dell'ascolto, come tempo della comprensione è molto importante a mio parere. E poi, insomma, ricordando che l'unità di analisi, l'unità anche di comprensione dello sviluppo umano non è l'individuo, ma è il contesto che comprende gli adulti, che comprende gli agenti sociali, che comprende i valori anche culturali che questi agenti sociali portano, che comprende anche gli ambienti fisico, quindi il tipo di spazio e quindi il tipo di opportunità per muoversi, per esplorare, per capire. Ecco, questo insieme di circostanze va mantenuto ed è importante. Quindi dare ambienti vivaci, dare ambienti ricchi, dare ambienti polivalenti e viverli insieme con il bambino, perché sicuramente i partner sociali sono l'elemento più importante, sono il medium proprio della conoscenza dell'individuo, passa attraverso di loro la conoscenza anche del mondo fisico, significa appunto, a mio parere, dare un buon ambiente di crescita. Grazie mille.